La Tosca di Giacomo Puccini e la sua melodrammaticità saranno le protagoniste della stagione lirica 2023 dell'orchestra Raffaello. Quattro appuntamenti che verranno portati sul palco di quattro teatri tra Marche e Romagna. Il 4 e il 5 marzo apriranno rispettivamente per l'occasione il Teatro Gentile di Fabriano e il Teatro Comunale di Cagli, mentre per il 10 e il 22 marzo l'opera lirica verrà riprodotta al Teatro Regina di Cattolica e al Teatro Sanso di Urbino. Tosca è l'opera più passionale di Puccini, è un'opera moderna, attuale, come abbiamo detto anche nella presentazione. Fa parte del melodramma italiano, però nonostante tutto è un'opera che risente di quegli espridi, di quei connotati moderni che anche ora oggi si ritrovano nelle opere. È un'opera che riguarda il tema dell'amore, dell'amore eterno, della passionalità, della spiritualità e quindi è un'opera che risente di quelli che sono i principi eterni dell'uomo, del bene e del male e quindi risentono di quelli che sono anche gli aspetti, diciamo, dei nostri giorni. A dirigere l'orchestra Raffaello in questo percorso di rilettura moderna offerta da Puccini c'è il maestro Stefano Bartolucci, capace in questi anni, come per questa occasione, di coinvolgere anche i bambini delle scuole per accompagnarli nella scoperta dell'opera lirica. Io farò la presentazione, ad esempio per Fabriano, il 4 facciamo la recita e il 3 andremo nelle scuole a fare la presentazione con i ragazzi, appunto con questo metodo di mettere dei cartelli a loro per farli sentire i protagonisti dell'opera a turno e ognuno di loro sarà un personaggio dell'opera così che memorizzeranno meglio le caratteristiche di ogni personaggio. Cerchiamo di avvicinare appunto l'opera ai ragazzi perché loro sono il nostro futuro e perché loro l'amano molto, cioè noi non ci rendiamo conto i ragazzi che vengono bombardati da messaggi dai media e quindi conoscono solo quello che gli viene proposto, ma in realtà se uno gli propone la grande arte come l'opera o come la pittura o come qualsiasi cosa, loro l'apprezzano perché hanno un animo sensibile. L'intento degli musicisti e degli autori dell'epoca era proprio quello di poter raccontare delle storie in musica quindi ecco la drammaturgia, l'aspetto drammaturgico è molto importante, molto presente e quindi quello che cerco un po' di suggerire, di aiutare sia ai musicisti che cantano che anche al coro è quello di riuscire a essere più espressivi, più appunto drammaturgici per far sentire quello che è l'atmosfera all'interno dell'opera insomma ecco.